Buon pomeriggio e buona settimana a voi. Allora ricordare ogni tanto a tutti noi chi sono i comunisti non fa male. La notizia potrebbe sembrare, non dico una notizia frivola, ma una notizia quasi di gossip. Invece poi se andiamo in fondo non lo è per nulla. Allora dovete sapere, ma sicuramente la maggior parte di voi magari lo saprà, che è stata eletta Miss Italia. È stata eletta Miss Italia una ragazza giovane di 19 anni, piemontese, Francesca Bergesio, figlia di Giorgio Bergesio, che tra l'altro fa parte della commissione di vigilanza della RAI, della Lega, è un esponente della Lega. Ecco, apriti cielo. Intorno a questo i comunisti, come sempre, hanno detto la loro e hanno aperto un dibattito, intanto dicendo che non era accettabile che la figlia di un senatore partecipasse ad una rassegna del genere. Dovremmo capire perché, perché non dovrebbe partecipare. È di tutta evidenza che probabilmente se fosse stata una transgender a vincere tutto sarebbe stato normale, tutto sarebbe stato accettabile, anzi probabilmente i comunisti avrebbero così privilegiato una scelta di questo tipo. Se ne dette di ogni, chiaramente che il padre possa anche aver avuto un ruolo nell'elezione di Francesca Bergesio. Non lo sappiamo, non è questo il tema. Il tema, come vedete, è ancora una volta che i comunisti in questo paese, quando hanno occasione, attaccano chi la pensa in maniera diversa su qualsiasi tipo di questione, quindi anche sull'elezione, ad esempio, di una Miss Italia. Oltre a parlare e a strumentalizzare qualsiasi tipo di notizia quando non corrisponde a quelli che sono i loro detami a livello culturale, a livello di pensiero, anche in queste circostanze dimostrano, voglio dire, come sono fatti e qual è il pericolo in Italia di questo tipo di pensiero. Se portano avanti loro, faccio l'esempio, una rassegna come Sanremo, in questa rassegna può succedere di tutto ed è tutto accettabile. Quando, appunto, come in questa circostanza c'è di mezzo l'avversario politico, allora è tutto da contestare, è tutto da disfare. Non è giusto che Francesca abbia partecipato, e figuriamoci, ad essere eletta. Questi sono i comunisti nel nostro paese, il loro modo di ragionare, il fatto del pensiero unico non lo dobbiamo mai, mai dimenticare, perché questa è esattamente la dottrina che ci vogliono insegnare sin dalle scuole. Se è uno di loro ad esprimere delle idee, sono accettabili, sono giuste. Se è uno di loro a vincere, ha vinto correttamente e va accettato. Se è uno di loro a esprimere una critica, ad avere un'opposizione rispetto a un qualcosa che succede nel mondo, allora quello è giusto, quello va seguito, quello va accettato. Quindi attenzione sempre a seguire questo tipo di notizie che, ripeto, apparentemente potrebbero sembrare gossip, ma che invece nascondono la vera natura dei comunisti della sinistra italiana. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.